Oggi vi racconterò un altro personaggio della banda della Magliana che era collegato direttamente sia con la banda della Magliana che con i servizi segreti, che con le mafie e con gli imprenditori. Questo personaggio era Domenico Balducci, detto Elzormemmo. Ve lo racconto dalla via dove lui abitava e dalla via dove è stato ucciso. Perché Elzormemmo è stato ammazzato nel 1981, proprio in questa via, da tre sicari provenienti dal gruppo dei Testaccini. Pertanto se vi interessa sapere di più su Domenico Balducci, rimanete. Altrimenti venite qua e c'è sto bel tronco d'albero, vi ci sedete a chiappe scoperte e state pezzetti. Qui da via di Villa Pepoli, una via molto esclusiva di Roma, come potrete notare è una via chiusa, dove si accede attraverso questo arco, dove da questa parte ci sono le terme di Caracalla e il centro di Roma. E dall'altra parte c'è la parte di via Ostiense e dell'Aventino. Perché è esclusiva? Perché qui sono praticamente tutte ville. In alcuni casi qualche villa magari è stata adibita a più appartamenti ed è molto costosa. E qui viveva Domenico Balducci. Domenico Balducci è noto perché aveva un negozio di elettrodomestici a Campo dei Fiori dove prestava i soldi. Era un usuraio, come si diceva a Roma, un cravattaro. Qual era la particolarità? Il famoso cartello che tutti ricordano affisso nel negozio di elettrodomestici. Qui si vendono soldi. Perché lui aveva un concetto della vendita dei soldi. Diceva che i suoi soldi valevano più dei tuoi soldi. Nel senso, io ti do un milione a te, quel milione vale un milione e mezzo. Perché tu a me ne devi ridare un milione e mezzo. Ma era anche furbo, come usuraio, come cravattaro, come strozzino. Perché non prestava i soldi ai poveri, ma li prestava ai ricchi. Qual era il vantaggio secondo lui di prestare i soldi ai ricchi piuttosto che ai poveri? Che i ricchi ci facevano una sorta di speculazione. Non a caso lui collaborava tantissimo con Carboni, che faceva tantissimi progetti di ogni tipo. Versava caparre, vendeva, comprava e riusciva in qualche modo sempre a riportare praticamente i soldi in casa. Oppure quote delle società, oppure dei palazzi che costruivano. Che ne so, non ti posso ridere i soldi, ti do due appartamenti di quel palazzo che abbiamo costruito. Infatti Carboni spessissimo si appoggiava a lui proprio per l'acquisto di tantissime cose o per le caparre. Perché la maggior parte delle volte c'erano delle caparre che bloccavano tutto. Dall'altra parte aveva una grande disponibilità di liquidità perché si era messo, alla fine degli anni 70, in affari con la banda ramagliana, nonché con il gruppo dei NAR e riciclava per loro tutti i proventi delle rapine, dei sequestri e c'era una doppia valenza nel darlo ai ricchi. Perché siccome le banconote erano tracciabili, specie quelle delle rapine, i ricchi avevano un circuito diverso dove far circolare questo contante ed era difficile poi risalire a chi li aveva dati. Se invece avessero dato questi soldi al classico povero, quello la prima volta ne andava in negozio a comprare il pane, a pasta, eccetera, venivano fuori le banconote segnate e quello avrebbe parlato subito. Perciò aveva strutturato un sistema di prestiti a usura lì dove non aveva neanche bisogno di un recupero crediti vero e proprio perché dandolo a persone facoltose addirittura potevi protestare coloro che ricevano i soldi e mai il contrario, cioè è difficile che qualcuno invece ti dicesse che eri un usuraio e ti denunciava. Ma veniamo a capire il profilo di Domenico Balducci. Domenico Balducci ha operato benissimo negli anni 70, dove è cresciuto dal punto di vista finanziario, tant'è che all'apice della sua carriera ha aperto la Sofint S.P.A., una società a Piazza Cavour che faceva semplicemente questo, finanziava tutte le società. Qualunque imprenditore voleva finanziare qualcosa andava da lui. Lui tra l'altro prestava i soldi o dava i soldi anche a persone molto importanti, personaggi politici, personaggi comunque dello Stato, grandissimi imprenditori e aveva creato un circolo molto importante da questo punto di vista che gli permetteva di avere agganci dappertutto. Considerate che lui era latitante alla fine degli anni 80, ma viaggiava lo stesso in Italia e all'estero. Questo perché? Perché spesso si appoggiava alla CAI, una compagnia aerea, dove lui viaggiava come funzionario dello Stato. E nel periodo in cui era latitante, lui nonostante avesse una lussuosa residenza in questa via, spesso viveva in appartamenti di fortuna e aveva lasciato qui sua moglie e una delle due figlie mentre lui ci veniva di rado. Il giorno che è stato ucciso nel 1981 praticamente era stato pedinato, sapevano benissimo tutto, tant'è che lo aspettavano tre persone, una in macchina e due che hanno fatto da comando di fuoco, e lo hanno ucciso mentre lui tornava col motorino e era già a cavallo del suo cancello, perché lui qui aveva una villa, questa villa aveva il classico cancello col giardino, tempo di citofonare, il tempo che gli aprivano, lui stava con una ruota dentro, l'hanno freddato e si sono allontanati calandosi con una corda e andando alla via esterna, dove c'era una macchina che li stava aspettando. Si dice che siano stati un commando del gruppo dei Testaccini, i tre personaggi più influenti tra l'altro dei Testaccini. Questo perché? Perché lui tra tutte le transazioni fatte con tutti i personaggi comunque importanti, qui aveva a che fare, referente della mafia a Roma, nella figura di Pippo Calò, che in quel periodo si faceva chiamare Mario Aglialoro, era anch'esso la ditante, e stava a Roma sotto copertura di ristoratore, perciò lui aveva un ristorante in centro, non lontano tra l'altro da Campo dei Fiori, era colui che gli affidava anche i capitali della mafia da ripulire. Solo che sembra che in una transazione, perché spessissimo questi capitali venivano ripuliti con gli acquisti in Sardegna, si costruiva in Sardegna e lì c'erano tantissimi soldi, e lì subentra Flavio Carboni, nonché il suocero, si occupavano proprio di questa speculazione di Lizia, non solo in Sardegna ma anche sul litorale romano come Torvajanica, eccetera. Una volta lui trattenne 150 milioni che erano destinati alla mafia. Questo gli costò carissimo, fu considerato come un affronto, venne dato l'ordine di ucciderlo. Voi immaginate che poi il comando dei testaccini distava 800 metri da qui. Quale figura più indicata per ucciderlo, se non i testaccini che erano veramente qui vicino e che potevano avere tutte le informazioni possibili. Un altro dato interessante di Memmo Balducci è che fu trovato addosso a Di Cristina un assegno girato a suo nome, a suo favore, nonché a nome di Inzerillo. Tutte le proprietà erano a nome della moglie di Memmo Balducci, tale Italia De Carolis, che era anche proprietaria della villa. Perciò la villa era intestata alla moglie, lui non aveva praticamente intestato nulla. La società, la Sofint, era intestata a tutti i soci fittizi, perciò non rischiava che gli sequestrassero nulla, ma lui aveva dei capitali ingenti e con questi finanziava veramente di tutto e di più. Il problema è che lui non è mai stato un criminale, cioè uno da rapina, uno da sparatorio, uno d'altro. E' sempre stato inquisito, in alcuni casi condannato, solo per reati finanziari. Però i reati finanziari che faceva lui erano di altissimo livello. Come vi dicevo, poteva andare tranquillamente in Sicilia, prendere dei capitali importanti, riportarli, ripulirli, dare comunque nuova linfa a tutti quei soldi che altrimenti sarebbero stati difficilmente gestibili, ma fare uno sgarro a livello di soldi alla mafia è stato un errore grossissimo e Caro gli è costato. Collegati a lui c'erano tantissimi personaggi, sia della banda della Magliana, sia della criminalità organizzata, ma in particolare dell'alta finanza, perché lui aveva a che fare sia con le banche, ma aveva anche a che fare con tantissimi costruttori, perché al costruttore servivano soldi. Per speculare servivano tantissime caparre e moltissime volte Flavio Carboni andava in giro, dava caparre per decine e decine di locali, per decine e decine di palazzi in giro per Roma, grazie ai soldi che prendeva in prestito, perché lui non aveva soldi e continuava a prendere soldi. Ogni qualvolta prendeva soldi, rimpiazzava con altri soldi in prestito. Era un po' un circolo vizioso. Nel momento in cui nel 1981 lui viene ucciso, ovviamente si crea un buco, perché il famoso cassiere, che rappresentava lui in quel momento, ma più che il cassiere, colui che riciclava i soldi, gli portavano il malloppo e lui questi soldi li riciclava e reinvestiva. Dove li reinvestiva? Proprietà in Sardegna, costruzioni nuove a Roma, tantissime altre cose che potevano tornare utili e far guadagnare comunque i criminali. Subentrarono altri personaggi come Dio Dallevi, ma in particolare poi successivamente Nicoletti, che diventò il vero cassiere della banda magliana e che durò per tantissimi anni ben oltre la banda della magliana. Pertanto la figura di Memmo Balducci viene dimenticata, ma viene subito rimpiazzata, perché era ormai una struttura talmente importante e rodata che non poteva mancare una figura come la sua, che riciclasse il denaro ad altissimi livelli. In tutto questo ci tengo a dire una cosa. Siamo in una via lussuosa, belle ville, mura romane, tutto tranquillo, tutto chiuso, guardia armata all'ingresso, perché giustamente è una via stracontrollata. Per arrivare qui, buon Domenico Balducci aveva fatto mille impicci. Com'è finita? Che è stato ucciso. E questo vi deve sempre far riflettere, no? Sul fatto che è bello che uno diventa ricco, è bello che uno ha lusso, è bello tutto quanto, ma se per arrivare a questo devi vivere male, perché ci è venuto una volta ogni morto di papa nella sua bellissima villa, quell'ultima volta che ci è venuto l'hanno pure ammazzato, perché giustamente è ravito di soldi, questo vi fa capire che forse è meglio fare una vita normale. Comunque, se vi interessa sapere altre informazioni, altre novità su altri personaggi, che vi ho anche citato durante questo racconto, scrivetemelo nei commenti. Chi c'era dopo? Chi può averlo ucciso? Diciamo, tutte quelle incognite ci possono essere legate sempre alla storia della banda magliana, che è sempre molto estesa ed è sempre collegata non solo a una banda di criminali, ma a tante istituzioni dello Stato e della Chiesa, che spesso sono protagoniste di questi racconti. Perché tutti questi soldi, tutto questo riciclo, tutto questo movimento che c'era intorno, non era fine a una banda di criminali, ma era fine a una struttura sicuramente molto importante. Detto questo, da qui, dalla via in cui è stato ucciso Domenico Balducci, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!